ciao fuoristradisti siamo in partenza per un viaggio di due giorni e ecco la strumentazione qualcuno di voi ha chiesto ma che cosa usi per la navigazione in fuoristrada questo è un tablet android con osmand come software e questo invece è un garmin 700i montana perché sono due sono due perché prima di tutto uno è un backup dell'altro se uno dei due dovessero un persì ce n'è sempre un secondo discorso e poi posso avere informazioni diverse rappresentate su ognuno dei due e anche livelli di zoom diversi su due mappe che tra l'altro sono diverse tra di loro e quindi siamo pronti si parte per il prossimo viaggio ciao fuoristradisti vi aspetto al prossimo giro